Se a causa di innumerevoli trattamenti odontoiatrici hai perso i tuoi denti ed anche il tuo osso e ti è stato detto che non puoi riabilitare perché non esiste possibilità di inserire nuovi impianti o di inserire nuovo osso sappi che oggi è possibile sfruttare una tecnica che esiste da alcuni decenni ma che nel recente passato è esplosa nel mondo della medicina e dell'odontoiatria che si chiama implantologia zigomatica impianti zigomatici sono impianti tradizionali solo un po più lunghi perché perché non si inseriscono nel mascellare dove normalmente si posizionano gli impianti tradizionali ma un po più su nello zigomo un osso molto strutturato molto duro capace dall'immediato di sostenere una protesi una protesi fissa una protesi senza palato questi sono i vantaggi di questa implantologia che ovviamente non è un trattamento di primo livello è dedicato a casi specifici ma potrebbe essere il tuo per cui è una tecnica che noi sfruttiamo e proponiamo nei casi adeguati proprio per le riabilitazioni più complesse l'impianto zigomatico offre quindi al chirurgo una soluzione pratica al paziente una soluzione ottimale in quei casi come ho detto in cui gli impianti tradizionali tenderebbero a fallire o non sono indicati eseguirlo e nelle sedi giuste con i chirurghi esperti è indispensabile soprattutto un lavoro di team dove al centro del team sia il paziente e la personalizzazione del suo caso è indispensabile altrettanto per ottenere il miglior risultato possibile impianti zigomatici dunque sono una soluzione ottimale per chi ha la necessità di una riabilitazione estrema che abbia l'ambizione sia di risolvere un problema di tipo estetico masticatorio e che avvisca anche a durare a lungo nel tempo